Un'altra buona prova dei Cattolica, ma alla fine i punti sono ancora a zero se si esclude quello tenuto sul campo dell'Agnonese. La squadra di Cassone procura a suo sfavore un penalty nel rimedio a due, ma ne segna uno. E veniamo alla cronaca di questo match, con i Cattolica quest'oggi in maglia scura, che si rende subito pericoloso con il tiro di Fabri che impegna Mercorelli. In Monte Giorgio replica con una punizione di Omiccioli smanacciata da Aglietti, ma proprio il portiere dopo gli applausi rischia di fare una brutta figura con questo rinvio azzardato, che mette nelle condizioni il titolo di provare la volée, che risulta fuori il bersaglio. In chiusura di tempo in Monte Giorgio passa. La punizione di Mariani viene deviata nettamente alle spalle di Aglietti per l'1-0 dei padoni di casa, che sulle aree dell'entusiasmo e con un Cattolica sbilanciato cerca di congelare il match prima con Titone che sfiora il palo, in seguito con Trillini, ma Aglietti è bravo nell'allungo. Ad inizio ripresa si sè e smarchi in area Battistini, che calcia debolmente tra i guantoni di Mercorelli. Aglietti dall'altra parte salva sulla concursione violenta di Trillini, ma sul proseguo della relazione Alighieri viene steso in area di rigore. Dagli 11 metri si presenta Nebi, che sigla il 2-0. Il Cattolica ha in merito di non demordere. Ferrante commette un'ingenuità nella propria area. Rizzitelli ha la grande chance, ma Mercorelli risponde da campione. Nel recupero, altro rigore per il Cattolica. Diuffe di mezza le distanze per il 2-1 finale, che purtroppo non aiuta il Cattolica a portare a casa quantomeno il pareggio. La classifica al momento rimane invariata. Ora come ora sarebbe indispensabile una vittoria per cambiare lo scenario.